Vittoria, piazza Manin, luogo critico per la socialità cittadina, tra aggregazioni e rischi di attività illecite. Non di rado è qui che avviene lo spaccio di droga, perciò i controlli della polizia e delle forze dell'ordine sono frequenti e costanti. Ieri gli agenti, dopo un'attenta perlustrazione e l'analisi di movimenti sospetti, hanno perquisito un'autovettura e rinvenuto, nascosto nel portoggetti del bracciolo centrale del conducente, quindi nell'immediata disponibilità dello stesso, un coltello a serrammanico, con un'apertura automatica della lama, il cosiddetto congegno a scatto di 24 cm di lunghezza. Un'arma quindi pericolosa, l'uomo è stato denunciato e il coltello sequestrato. Nei giorni scorsi gli agenti, dopo l'attenta osservazione di presenze nella piazza, attese più o meno indicative, arrivi e dialoghi sulle panchine, intervenivano nel momento in cui una quantità di droga veniva ceduta. Erano 15 grammi di hashish. Il presunto spacciatore veniva arrestato e portato nel carcere di Ragusa.